E' di due agenti feriti il bilancio di una nuova rissa che si è scatenata nel pomeriggio di ieri al carcere di Forni a Salerno. Momenti di forte tensione dietro le sbarre della casa circondariale dove, secondo quanto riferisce Emilio Fattorello, segretario per la campagna del SAP e il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, si è verificata una nuova rissa tra detenuti di origine africana a seguito della quale due poliziotti penitenziari sono rimasti feriti. Uno ora ha una gamba rotta ed è stato ingessato con 25 giorni di prognosi, l'altro se l'è cavata solo con tre giorni di prognosi. E all'interno del carcere di Forni sono anche stati ritrovati telefoni cellulari. Sia la rissa sia il ritrovamento dei telefonini seguono di pochi giorni episodi analoghi avvenuti sempre al carcere di Forni, dove sembrerebbe esserci in atto una sorta di lotta su chi deve comandare e gestire tutti questi traffici illeciti che consentono proprio l'ingresso nell'istituto di droga e cellulari. E questa, secondo la Polizia Penitenziaria, la motivazione che sarebbe alla base della lite avvenuta anche la scorsa settimana, questa volta tra un gruppo di detenuti salernitani ed un gruppo di detenuti napoletani, anche questa volta a pagarne le spese un poliziotto. In quella circostanza alcuni detenuti hanno forzato il calcello di ingresso e hanno iniziato una rissa con un gruppo di altri carcerati e nel tentativo di sedare la tensione un agente è stato travolto e ferito. Ormai non abbiamo più parole per descrivere le criticità della casa circondariale di Salerno e la conclusione del SAP che lancia un grido d'allarme e chiede un intervento. Grazie per la visione!